Le mamme di Ceciliano incontrano il vice sindaco Tanti, una delegazione di mamme di Ceciliano. Qual è la problematica? La problematica è che per un problema demografico degli ultimi anni, purtroppo quest'anno non ci sia la possibilità di attivare la classe prima alla scuola di Ceciliano. Stiamo cercando, insieme alla vice sindaca e alle altre autorità coinvolte, al provveditorato e all'istituto Vasari, di trovare un modo per valutare se c'è una possibilità per poterla attivare, perché è una risorsa importante sia per il paese che per le famiglie che abitano nelle vicinanze. Si tratta di una gestione familiare che può cambiare, perché ci sono alcune mamme che hanno già dei figli alla scuola di Ceciliano e quindi si dovrebbero ritrovare a dividere o a scegliere di spostare anche l'altro figlio. O chi ha un secondo figlio che si dovrà iscrivere fra magari un paio di anni, quindi è proprio da un punto di vista di welfare familiare che si parla di questo. Io credo che il provveditorato ci stia mettendo del suo per arrivare a questa conclusione. Quello che ha detto la signora prima è corretto, qui non c'è una paura, c'è però la volontà di non disperdere un presidio che comunque facilita e mette nelle condizioni le famiglie di organizzarsi in maniera più adeguata. Cercheremo di salvaguardare al massimo, tenendo presente che c'è comunque un calo demografico, è inutile negarlo, però insomma vediamo di compensare i numeri con prospettive.